Sono fallite circa 5 aziende cripto negli ultimi 7 giorni. Sta succedendo veramente di tutto e di più e nel video di oggi andremo a commentare tutto e vi mostrerò i dati effettivi di ciò che sta succedendo. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e in questo canale parliamo di finanza personale, investimenti e cripto. Se siete interessati a questi argomenti vi invito a lasciare un like e anche ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. Come avrete visto nell'ultimo periodo il mondo cripto è veramente colpito da fallimenti a destra, fallimenti a sinistra, aziende che sono in banca rotta, società che interrompono i prelievi dei propri clienti e veramente ne stiamo venendo di tutti i colori. Oltre al fatto che ogni giorno, come ben saprete, il fallimento di FTX sta creando un sacco di indiscrezioni e un sacco di problemi. In quanto si parla di hacker che abbiano prelevato da FTX, che stiano comprando degli Ethereum, dei Bitcoin, stiano spostando dei portafogli vari e facendo girare questi soldi che alla fine sarebbero i soldi di tutti i malcapitati che appunto avevano investito su queste piattaforme e che sono stati derubati e che stanno venendo appunto usati da qualcuno che non si sa chi sia. E quindi sto seguendo alcune faccende su Twitter che parlano e segnalano appunto dei movimenti importanti di Bitcoin che appartengono appunto a questo hacker. Il fatto è che li sto seguendo così per un fatto di interesse ma non perché ci si possa fare qualcosa, ormai i soldi che ho e che abbiamo perso su questa piattaforma non sono più recuperabili in alcun modo. Il creatore di FTX ha detto che avrebbe provato a recuperare ma ci credo veramente poco. La situazione è veramente difficile, lui addirittura è scappato nelle BAMAS per non essere rintracciato da nessuno ed è una cosa veramente assurda. Oltre al fatto che ho letto alcuni tweet, alcuni post riguardanti un paragone che è stato fatto tra due piattaforme, ovvero appunto quella di FTX e anche quella di Tornado Cash. Non so se conoscete il progetto di Tornado Cash ma era semplicemente una criptovaluta che permetteva di occultare le transazioni perché come sapete in realtà le criptovalute non sono valute che permettono degli scambi che non sono visibili perché sono l'esatto contrario, infatti la blockchain è un registro distribuito e tutti possono vedere tutte le transazioni. Quindi non è vero quando qualcuno dice eh io uso bitcoin, mi sposto così nessuno mi controlla. Non è vero, volendo uno se sa il tuo indirizzo, se prendi i tuoi dati puoi vedere tutto quello che hai fatto, peggio di un conto in banca. Il paragone appunto veniva fatto con Tornado Cash che è questa azienda che è andata a creare una cripto che appunto fa delle transazioni non rintracciabili che con una tecnica appunto chiamata Tornado andava a effettuare tantissime transazioni e quindi creava un miscuglio incredibile di codici, di transazioni, di indirizzi e non si capiva più nulla e quindi rendeva impossibile andare a capire chi avesse fatto la transazione, dove avesse mandato i suoi bitcoin e così via. Il motivo per cui vi sto facendo questo discorso è che appunto il creatore di FTX attualmente vive tranquillo nelle Bahamas con una vila, con tutti i soldi che gli sono rimasti che alla fine si stima che siano ancora un miliardo, ok che partiva da 25 miliardi ma con un miliardo penso che puoi sfamare la tua stirpe intera per il resto dell'umanità. Quindi sono veramente tantissimi soldi e si gode la vita dopo aver rovinato la vita di non so quante veramente migliaia, centinaia o addirittura milioni di persone. Dall'altro lato abbiamo il creatore di Tornado Cash che sicuramente non era un'organizzazione troppo corretta, comunque era un'organizzazione particolare, poteva permettere di effettuare transazioni illecite ma comunque lui è in prigione e quindi lui che non ha praticamente rubato soldi a nessuno ha semplicemente creato questo sistema per occultare transazioni che sì, appunto può essere definito illegale o non troppo corretto, con cui lui è stato spedito in prigione e invece quell'altro che ha trovato milioni di persone è a farsi le vacanze e cioè è veramente una cosa assurda. Spero che almeno la legge riesca a operare e che chi ha fatto questi errori, chi ha fatto sparire i soldi, paghi le conseguenze perché è veramente ingiusto. Poi non voglio assolutamente difendere quello che ha creato Tornado Cash perché è appunto come dicevo prima un'organizzazione non troppo legale però non ha fatto del male a nessuno lui, è proprio ingiusto il fatto che lui sia in prigione e SBF che sarebbe appunto il creatore di FTX, come per esempio Du Kwon che era il creatore di Luna che non si sa che fine abbia fatto ma anche lui ha fatto sparire i soldi a veramente un sacco di persone e lui si fa la sua vita normale. Andiamo però a vedere cosa sta succedendo nell'intero mondo cripto. Come primo fallimento sapete ormai che nelle scorse settimane c'è stato FTX che sta creando problemi veramente a cascata mettendo in dubbio la fiducia degli investitori in qualsiasi piattaforma. Attualmente come sapete c'è il detto Not Your Keys, Not Your Crypto, Not Your Coin se non nemmeno me lo ricordo che significa semplicemente che se voi non avete le chiavi del wallet dove possedete le crypto, le crypto non sono vostre quindi questo significa che dovete andarvi a prendere un ledger o non lo so almeno un wallet sulla DeFi che quindi è vostro e voi possedete credenziali. Ovviamente sono molto più sicuri se ne avete la possibilità anche io vi consiglio di spostare le vostre crypto su questi wallet quindi il wallet DeFi potrebbe essere Meta, Mascot Trust Wallet e il wallet fisico potrebbe essere un ledger o simili quindi quelle specie di chiavette che vedete vi permettono di avere l'accesso a un wallet e avete appunto l'accesso solo voi tramite quella chiavetta. Però parlando della situazione attuale cos'è successo? Dopo FTX ci sono stati veramente tantissimi problemi a partire da un exchange giapponese di cui in realtà ora mi sfugge il nome che ha bloccato i prelievi ed era un exchange veramente molto grosso in Giappone quindi questa è un'altra cosa che ha peggiorato la situazione. Poi c'è stato il caso Crypto.com attraverso quella transazione strana che vi ho spiegato nello scorso video che vi lascio qui in alto a destra se lo volete recuperare in pratica erano stati spostati se non sbaglio 320.000 Ethereum per un totale di veramente un sacco di milioni di euro ed è stato detto che era per errore. Questo ha fatto storcere il naso a monti che hanno disinvestito tutto da CRO e se ne sono scappati. Fatto sta che poi il CEO di Crypto.com che si chiama Chris ha rilasciato delle interviste ha fatto dei video su YouTube, ha fatto anche dei tweet in cui è andato a spiegare che era una transazione sbagliata e che questi Ethereum erano stati mandati su un bullet che era sempre di Crypto.com però si trovava nel posto sbagliato che in realtà è una cosa che può succedere potenzialmente a chiunque se magari dobbiamo mandare i soldi su Binance e abbiamo salvato l'indirizzo e magari li mandiamo su Coinbase al posto che su Binance e appunto è una cosa che può capitare. Diciamo che se spostiamo 320.000 Ethereum magari poniamo un pochino più di attenzione a questa cosa ed è proprio per questo che risulta molto strano che abbiano sbagliato una transazione di questo tipo. Fatto sta che Crypto.com sta resistendo, non ha bloccato i prelievi e non ha ancora fatto mosse strane anche perché nel momento in cui vengono bloccati i prelievi potete già dare per scontato che la piattaforma è finita perché non verranno mai riabilitati, ormai ho visto 5 o 6 fallire così e sono andate tutte nella stessa maniera poi se dovesse succedere che una li blocca e li sblocca meglio così per l'amor di Dio almeno qualcuno non ci perde i soldi però ormai ho poche speranze in queste cose che succedono. Fatto sta che quindi Crypto.com almeno per ora sembra stare in piedi poi vedremo cosa succede in futuro che come sapete spero tantissimo che non succeda niente. Siamo passati poi al caso di BlockFi che come vi ho mostrato nello scorso video era fortemente collegata al caso FTX infatti FTX possiede un sacco, ma veramente un sacco di aziende e tra queste c'è anche BlockFi che quindi era fortemente esposta al token FTT o comunque aveva investimenti in generale in FTX e poi i soldi venivano gestiti dalle stesse persone quindi sono stati gestiti male sia quelli di BlockFi che quelli di FTX e BlockFi è rimasta senza riserve quindi ha bloccato anche BlockFi la possibilità di prelevare e adesso si parla già di come firmeranno i documenti della bancarotta e tutte queste cose quindi anche BlockFi ormai sembra essere andata. Si sta poi sviluppando un caso molto pesante ovvero quello delle piattaforme Genesys, Gemini, Grayscale e DCA che andiamo a vedere una alla volta. Gemini è un altro exchange che permette come Coinbase, Binance, l'acquisto di cripto. Fatto sta che è stato inaccessibile per alcuni giorni e poi ha bloccato i prelievi. Da sempre degli errori strani, non ci sono state comunicazioni particolari da parte del team se non una che vi dice, che magari vi lascio anche qui sovraimpressione, che loro posseggono le riserve una a una quindi se io ho depositato un bitcoin loro posseggono un bitcoin e che quindi è tutto salvo semplicemente però ci sono tantissimi problemi con i prelievi anche se loro ufficialmente non dicono di averli bloccati quindi anche qui un grosso punto di domanda. Ora invece mi sposterei sul computer così commentiamo gli altri casi. Eccoci qui sul caso Genesys, questo è un articolo fatto da Milano Finanza vabbè poi potete trovare articoli fatti da qualunque sito, poi ho scelto questo per comodità visto che è in italiano e come vedete ci parla di Genesys Global Capital che è appunto una società che si occupa di fornire prestiti all'interno del mercato digitale, quindi quello delle cripto e dato che erano fortemente coinvolti con il caso FTX hanno sospeso i prelievi e quindi il rischio di questa piattaforma è veramente molto alto e difficilmente si riprenderanno. Dietro di loro si trova DCG, appunto Digital Currency Group che è importantissima come azienda che come vedete ha anche un credito di 1,2 miliardi di dollari dell'Hedge Fund in bancarotta quindi presumibilmente soldi che andranno persi. Poi qui si parla anche di altri investitori o di come sono state bloccate alcune funzionalità come Learn e questo è appunto il profilo Twitter della piattaforma Genesys e come vedete dicono quello che abbiamo appena visto nell'articolo quindi tutto torna. Anche qui vediamo un'altra piattaforma che è in difficoltà ovvero quella di Grace che in realtà ha pubblicizzato queste informazioni dicendo che tutti i loro fondi sono protetti tramite questo documento però non li hanno voluti far vedere e non si è capito per quale motivo quindi sì hanno fatto questo report, l'hanno mostrato però rimane comunque un po' l'alone del dubbio, del mistero cosa che non è mai bella soprattutto in queste situazioni. Quindi anche qui siamo un po' sul punto di domanda, anche questa è una società molto importante che si occupa appunto di investimenti in asset digitali. Passando poi sul profilo di Gemini anche loro hanno tweetato queste cose dicendo che hanno gli asset che sono protetti che la piattaforma è tornata a funzionare però in realtà molte persone segnalano problemi nei prelievi che non riescono quindi anche qui loro dicono una cosa ma la realtà è un'altra quindi non andiamo proprio bene bene. E questo appunto è il post che vi dicevo di Grayscale dove dicono che appunto poi vabbè è un thread abbastanza lungo nel quale dicono che ci sono i loro asset e le loro cose però non ce le vogliono mostrare troppo apertamente hanno linkato questo sito ma dice ben poco. Nel frattempo però una cosa che ci ha dato sapere che possiamo vedere sono le riserve che hanno tutte queste piattaforme. Abbiamo appunto la possibilità grazie a questo sito che si chiama Nansen Portfolio di andare a vedere tutte le riserve presenti sulle piattaforme. Come vedete adesso va a stare un attimo caricando. Questo è l'ammontare posseduto da Crypto.com sulla loro piattaforma. È sceso negli ultimi giorni perché da più o meno a 2 miliardi e 500 mila infatti moltissimi hanno prelevato però come vedete tantissimi altri hanno deciso di lasciare i loro soldi sulla piattaforma e come avevo già accenato nello scorso video le riserve di Crypto.com sono molto alte sugli SHIB e questo è stato molto scarpore ma è semplicemente una scelta degli investitori perché questi sono gli asset degli investitori che loro posseggono e niente se gli investitori investono in SHIB ovviamente Crypto.com deve possedere degli SHIB non può fare altro. Allo stesso tempo ha dei Bitcoin, degli Ethereum eccetera quindi vabbè se gli investitori vuole investire in SHIB sono liberi di farlo. Alla fine è una delle monete che sta resistendo di più quindi non possiamo nemmeno lamentarci con chi lo ha fatto pur essendo sempre una SHIB coin ovviamente. È possibile poi andare a osservare tutte le altre piattaforme vedete che in realtà non ci sono tutte manca per esempio Coinbase all'appello però possiamo vedere anche qui Binance che vabbè di possedimenti ovviamente molto più alti di Crypto.com e sono più che altro in BUSD, USDT, BTC, BNB, Ethereum eccetera quindi qui sono sicuramente asset più validi però sappiamo anche che Binance è utilizzato da molte più persone soprattutto da chi ha grossi capitali e chi è più esperto quindi c'è meno speculazione o meglio ce n'è tanta però ce n'è meno su monete come SHIB e queste altre qui piccoline. Passiamo poi a questo che è una nota molto interessante ho visto un paragone appunto con Mr. Gox che per chi non lo conosce era un exchange veramente enorme che copriva appunto il 70% del volume globale mentre FTX ne era solo il 10%. Da 2013 purtroppo si fa fatica a trovare dati avrei voluto magari mostrarvi dei grafici o qualcosa del genere ma è veramente difficile trovare dei movimenti guardando per esempio su Bitcoin possiamo notare che nel 2013 erano cresciuti e poi hanno iniziato a scendere parecchio perdendo quasi il 50% nel 2014 dopo appunto la faccenda di Mr. Gox che come vi stavo introducendo all'inizio è una piattaforma, un exchange come se fosse Binance oggi in realtà oggi non so quanto Binance copra del mercato totale del trading però possiamo paragonarli perché appunto Binance copre una grossa fetta alcuni hanno paragonato FTX con Mr. Gox ma appunto il paragone non tiene testa perché come possiamo vedere FTX copre solo il 10% mentre Mr. Gox è il 70% poi qui è spiegato più nei dettagli all'interno di questo articolo se volete potete cercarlo adesso vi faccio vedere appunto chi l'ha scritto questo W Clementelli questo ci fa capire che FTX è un crollo sì importante perché il 10% del mercato è tanto ma non è così importante come un 70% anche se ci fosse un crollo di una piattaforma che copre il 70% saremo veramente a rischio di vedere le crypto cancellate però in questo caso fortunatamente non siamo in questa situazione poi qui vediamo altri dati sul fatto che Genesys abbia sospeso i prelievi li abbia reattivati ci sono stati problemi ovviamente su Genesys non si capisce quasi nulla però vabbè io spero veramente che voi non abbiate i soldi qui sopra perché è un'altra piattaforma molto a rischio se li avete magari iniziate a toglierli ecco potrebbe essere una soluzione sempre che riusciate tornando a noi la situazione purtroppo è difficile io in realtà speravo con ieri che appunto è stata domenica con la prima giornata della Coppa del Qatar dei mondiali di calcio che ci fosse magari una piccola ripresa anche un piccolo spunto da parte di Crypto.com che con tutta la pubblicità che avrà fatto ieri potevo ottenere un po' di visibilità ovviamente non è successo anche perché la partita non l'avrà seguita quasi nessuno visto che era una partita così interessante però il mondiale è ancora lungo Crypto.com è lo sponsor principale quindi ecco spero di vedere tante cose tante pubblicità cioè in realtà lo guarderò solo per vedere dove è pubblicizzato Crypto.com perché le partite ovviamente essendo italiano mi interessano ben poco ma spero che questo possa dare molta pubblicità al mondo delle crypto e che magari si possano un pochino riprendere le persone non stanno investendo in crypto in questo periodo per i motivi che vi ho già spiegato negli scorsi video più e più volte ovvero il fatto che c'è una grossissima crisi i tassi di interesse sono alti la gente preferisce investire in asset più sicuri e così via quindi non possiamo nemmeno aspettarci che le crypto vadano bene in un periodo del genere anzi sarebbe totalmente innaturale a quanto impossibile vi direi dato che non ci sono soldi e quindi la gente non li vuole rischiare allo stesso tempo però pubblicizzando così tanto la piattaforma io penso che la possibilità anche di piccoli investimenti da molti investitori che vedranno la piattaforma ci possono stare e che potrebbero magari rialzare un pochino il prezzo neanche tanto giusto un pochino per vedere un po' di verde che non lo vediamo veramente da tanto infatti anche quest'oggi vedo bitcoin a 15.700 eterum a intorno ai 1000 ed è veramente una situazione brutta soprattutto per chi è investito come tutti noi io quindi spero che le cose possano andare meglio spero che con questo video vi abbia dato un po' di aggiornamenti utili e che magari vi eravate persi negli scorsi giorni per farvi un po' capire che siamo in una situazione molto a rischio è ovvio che non voglio creare più paura di quella che ci sia già volevo semplicemente comunicarvi le principali notizie della settimana però ecco spero che le cose si possano risolvere al più presto per me e per voi e per tutta la community delle cripto però finché i governi non inizieranno ad abbassare i tassi di interesse sarà una strada lunga i governi penso che lo inizieranno a fare minimo minimo a fine 2023 quindi ecco staremo a vedere se poi lo volessero fare prima guardate io sono qui disponibile lo accetto molto volentieri io vi ringrazio per aver visto il video fin qui vi invito ancora a lasciare un like un commento magari per dirvi qual è la vostra opinione e niente ci vediamo al prossimo video statemi bene let's go ciao 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 ciao